Ok, allora oggi sappiamo già cosa fare, perlomeno dobbiamo terminare l'esercizio che abbiamo iniziato ieri sul tema d'esame del 23 gennaio 2017, se ricordate eravamo arrivati di fatto alla costruzione della funzionalità richiesta dal primo punto a livello di model e di DAO, non ancora a livello di controller, quindi dobbiamo essenzialmente richiamare quel metodo che già nel model esiste e già ci dava l'elenco degli stati, cioè che chiedeva il testo, l'elenco degli stati con indicate per ciascuna, è già una frase del testo, l'elenco degli stati con l'abbraviazione nome indicando per ciascuno il numero di stati confinanti stampato in ordine decrescente nel numero di stati confinanti, noi questo ce l'abbiamo già, per ora ce l'abbiamo solamente nella console, ovviamente questo valore lo dobbiamo passare nel controller, quindi l'ultimo passaggio che ci manca su questo esercizio è quello di andare nel controller, quindi all'interno del controller e inserire all'interno del calcolo a confini la chiamata al metodo del modello. Allora vediamo solo, visto che il controller non l'abbiamo ancora toccato, molto probabilmente manca ancora riferimento al model, quindi dovremmo aggiungerlo. model, dopodiché aggiungiamo un getter e un setter per questo model che ci vengono inseriti qua sotto e modifichiamo il main in modo da effettivamente richiamare, passare il modello, creare il modello e passarlo al controller, quindi questo dunque già che ero separato, devo a questo punto creare il modello e poi controller punto set model di model, qui ci vuole l'import e dovremo essere a posto. A questo punto possiamo tornare nel nostro controller e effettivamente inserire all'interno del calcolo a confini quella che è la chiamata al metodo che chiamavamo crea grafo del modello. Allora per farlo è necessario conoscere l'anno che l'utente ha inserito, quindi come prima cosa dobbiamo estrarre il valore che l'utente è inserito dalla casella di testo, all'interno della casella di testo che si chiamava txtanno.gettext. Questo ovviamente è un anno sotto forma di stringa, perché la casella di testo riassume del testo della stringa dobbiamo riuscire a estrarre un valore intero che corrisponde al numero dell'anno. Per farlo usiamo il metodo parse della classe integer, quindi chiamiamolo anno s, quello come stringa, s, e invece int anno è quello intero, quindi integer punto parse int della stringa anno s. Quindi in questo caso leggiamo la stringa e cerchiamo di estrarre il numero intero. Qui ovviamente possono andare storte un po' di cose, può darsi che la stringa anno s sia vuota, quindi l'utente non abbia scritto nulla, può darsi che non sia vuota ma non contenga un numero, contenga ciao o altre cose, oppure contenga un numero magari non valido, tipo 10.000 oppure meno 200. Allora queste cose qua dovremmo riuscire a controllarle prima di chiamare il modello, perché il modello effettivamente si fida dell'intero che gli viene passato. Allora per far questo intercettiamo una serie di blocchi per andare a vedere i vari possibili errori che si possono verificare. Quindi il primo errore che si può verificare è che se per caso anno s è vuoto, se la lunghezza di anno s è 0, allora l'utente non ha scritto nulla. Quindi lo segnaliamo all'utente, ad esempio mettendo un messaggio nel txt result, errore, devi inserire un anno. E poi return, esco da questo metodo perché non devo andare avanti ovviamente nell'elaborazione se c'è questo errore. Andrò avanti solo se a questo punto l'anno, la lunghezza della stringa anno è maggiore di 0. Se è maggiore di 0 quindi ho una stringa da convertire, posso provare a convertirla. Dico provare perché parsint è un metodo che ci prova e se non ci riesce genera un'eccezione che è una number format exception. Lui cosa fa? Andiamo a vedere la documentazione meglio. Dice, parsifica l'argomento stringa come se fosse un numero decimale intero, quindi in base a 10 intero. I caratteri devono essere tutte le cifre decimali tranne il primo carattere che può essere segno più o meno eccetera eccetera. Se invece la stringa non contiene un parsable integer, c'è un numero che poi si è letto come se fosse un intero, allora genera un number format exception. Eclipse non ce lo sottolinea in questo caso qui perché number format exception è una sottoclasse di runtime exception e runtime exception è sempre sotto intero che possano avvenire sempre. Quindi a differenza della SQL exception ad esempio, quando hai un metodo che genera throws una SQL exception, ti è obbligato a mettere tra i catch altrimenti Java non te lo lascia compilare, in questo caso non ti dice nulla, Eclipse non te lo dice, perché appunto è una runtime exception che può capitare sempre. Noi però la vogliamo catturare, non in generale la runtime exception ma questa number format exception in questo punto. Quindi questa operazione va bene, la facciamo, ma la facciamo dentro un try catch. cache di tipo abbiamo detto, lo sono già dimenticato, number format exception. Per cui se per caso viene girata con l'eccezione, allora farò una cosa analoga prima, catturo l'eccezione e non lascio proseguire il programma, dico ad errore, l'anno deve essere in formato numerico. Se invece è valido, cioè non genera l'eccezione, posso proseguire, ad esempio qua sotto, a richiamare modello. Se vuoi farti tanto male, lui mi chiede se si poteva fare un controllo a priori creando una regola expression che corrispondesse al numero. Sì, se riesci a scrivere esattamente una regola expression che cliccare il numero intero è relativamente facile, è relativamente facile. Poi dovete fare attenzione alle spazi iniziali, finali, se devi accettarli o rifiutarli. La difficoltà è quella, già se fosse un numero reale, piuttosto scappo, bisogna riscriverla, perché il numero reale c'è la virgola, poi c'è l'esponente, il più o meno l'esponente, il più o meno il numero, puoi avere lo 0 davanti alla virgola, però puoi avere 0.3, puoi avere 0.3 senza il 3, puoi avere 0.3 senza lo 0 davanti, ma non puoi avere il punto che non abbia almeno una cifra davanti oppure una cifra dietro. Quindi si può fare, ovviamente, la libreria lo fa, il metodo parse della classe integral fa quello, il metodo parse della classe double fa quello. Quindi se io sono sicuro al 100% di riuscire a riprodurre, perché io devo riuscire a essere sicuro al 100%, di riuscire a intercettare esattamente il caso in cui quella non dì eccezione. Però tra il che ce l'hanno inventato apposta, nel senso che non c'è un metodo di integra che dica dimmi se sarebbe parsificabile, provi a farlo nel caso in cui non lo sia, quindi sei sicuro che non rischi di avere un errore, un disallineamento tra il controllo che fa il livello di sezione e il controllo che fa lui effettivamente del riparsi, quello è il rischio. Quindi faccio lavorare la libreria. A questo punto anno, vabbè, non lo posso mettere qua, ma lo dovrò mettere qua, perché mi serve anche dopo, fuori dal try. E quindi a questo punto sono uscito, potrei ancora fare un controllo sul range degli anni, diciamo che se l'anno è minore, dunque noi sappiamo qual è l'anno minimo nel database all'interno di contiguity, possiamo vedere subito, select min di year from contiguity, 1816. Quindi se per caso l'utente inserisce un anno minore del 1816, allora evito di fare l'operazione perché so già che non ci saranno dati. Quindi in questo caso anche qua, errore per anni precedenti a 1816 non ci sono dati. Cioè è un numero intero, ma è un numero intero troppo piccolo. Sul valore massimo, anche se uno mette l'anno 10.000, non cambierà nulla rispetto all'anno massimo che ha il sistema A, che è il 2006. Quindi non so se vale la pena di fare anche un controllo sul massimo. Comunque immaginiamoci, proviamo a immaginare tutti i possibili dati errati che l'utente può inserire e li dobbiamo andare a intercettare prima di effettivamente usare quel dato. Una volta che abbiamo il dato però è tutto facile perché semplicemente abbiamo una lista di, come si chiamava, country and number. sono gli stati che saltano fuori dal modello a cui chiediamo il creagrafo dell'anno specificato. A questo punto non dobbiamo fare altro che prendere questa lista e stamparcela nella finestra del risultato. Quindi for country and number, ccn country num, due punti stati, txtresult.append text, string.format, nel formato una stringa, due punti, spazio, un numero intero, %d, barra n, gli argomenti sono cn.getcountry e cn.getnum. La stessa cosa che avevamo prima nel main di prova, solo che anziché fare un system.out.println, facciamo un textresult.append text. Quindi questo dovrebbe incapsulare all'interno del controller le operazioni che facevamo prima. Ogni volta che chiamiamo, premiamo quel bottone nel controller, viene creato da 0 un grafo con quel valore di anno e mi vengono restituiti questi valori. Vediamo se funziona. Quindi riavviamo il main. Questa volta. Eccolo qua. Allora, anno, se non metto l'anno, premo calcolo confini, mi dice che deve inserire un anno. Se metto un anno che non è un numero intero, mi dice che deve essere informato numerico. Se metto l'anno 30, mi dice che non ho dati prima del 1816. E adesso mettiamo l'anno 1816, vediamo cosa esce. Mi dice che ci sono certi stati, 8, 8, 8, 4, 3, 2, eccetera, eccetera. Se cambio l'anno, quindi metto il 2006, che so che è il più recente, ovviamente mi stamperà in coda alla precedente perché non l'ho cancellata. Eccolo qua. Magari era meglio stampare una riga del tipo questi sono gli stati del 2006, ma come separazione, qui finiva la stampa precedente e qui inizia quella successiva. Quindi questa è la parte che chiude il punto 1 dell'esercizio. A questo punto, punto 2. Il punto 2 dell'esercizio richiede di analizzare questi stati e lanciare la simulazione dei migranti a partire da uno di questi stati. Quindi la prima cosa che devo fare, che devo ancora fare in questo gestore di eventi, del bottone calcolo a confini, è quello di popolare questa tendina esattamente con gli stati che ho appena stampato sotto. Perché a seconda dell'anno che metto, gli stati tra cui scegliere devono cambiare. Devono essere esattamente questi stati. Magari gliele facciamo anche mettere a questa povera tendina in ordine alfabetico queste cose. Quindi noi abbiamo, torno nel controller, abbiamo da qualche parte l'elenco degli stati da aggiungere alla tendina? Sì e no, nel senso che ce l'abbiamo, ma non sotto forma di lista di country, ma sì sotto forma di questi oggetti, country.num. La tendina, qui non l'avevamo ancora dichiarata, ma dovrebbe essere una tendina probabilmente di country, cioè l'elenco delle nazioni, non c'entra niente nel numero. Quindi in qualche modo dobbiamo passare da una lista di country.num a una lista di country. Questo possiamo farlo in due modi, o lo chiediamo al model, oppure ce la ricaviamo dalla country.num che abbiamo appena ottenuto. Possiamo fare questo così, quindi a questo punto diciamo popolo la tendina con le country appena stampate. Quindi per popolare la tendina innanzitutto devo cancellare ciò che eventualmente ci fosse dal giro precedente. Quindi si chiamava boxnazione, boxnazione.getitems.clear. Questa è una collection l'items, quindi la uso tranquillamente come se fosse una lista. e poi di nuovo per ciascuna country.num.cn due punti stati. boxnazione.getitems.ad di cn.getcountry non posso fare un addol perché è un oggetto diverso e quindi devo giungere uno a uno alla fine cosa salta fuori? Salta fuori che la tendina dovrebbe essere verifichiamolo 2000 riempita esattamente con gli stati che ho stampato peccato che sia in ordine nello stesso ordine in cui li ho inseriti cioè nello stesso ordine in cui li ho stampati lì vorrei possibilmente in ordine alfabetico come faccio? potrei fare un sort direttamente su questa lista attenzione che dobbiamo verificare se l'oggetto country ha un metodo compare to per poter ordinare andiamo a vedere se per caso in questo oggetto country c'era già un compare to no, anche perché lui non era dichiarato ah no, c'era già, guarda compare to era dichiarato comparable di country qua e compare to lavora sul nome dello stato tra l'altro il nome dello stato non è il contenuto della tendina fatemi riavviare il programma il che è meglio nel senso che se io facessi un ordinamento alfabetico di questa stringa visualizzata di fatto verrebbe ordinato per la sigla di tre lettere mentre invece compare to va a confrontare esattamente il nome dello stato adesso probabilmente in molti casi coincide ma non è detto in tutti quindi è più senso ovviamente uno si ricorda cercare un ordinamento alfabetico lo stato e non la sigla quindi se è così in realtà abbiamo già tutto fatto basterà dire nel controller che questa tendina box nazione punto get items deve essere ordinata quindi collection punto sort di questa che è una lista alla fine non gli piace non gli piace perché questa non è una list ma è un observable list e quindi sort non sa farla ecco observable list non è figlia di lista si si c'era già compare to dove implement comparable di country la lista abbiamo una lista di country credo controlliamo bonus controller perché non gli piace questa è una lista di country è un observable list non è un tipo di list scusate è un list caro mio cosa ho sbagliato collections sort di list is not applicable for observable list e voi sostenete che a voi non dà l'errore a me sì bene infatti insiste che non funziona che non gli piace va beh è illogico ma qualcosa non stiamo vedendo di sicuro se facessi così non gli piace lo stesso non gli piace lo stesso infatti mi leggere meglio list di t in the type collection is not applicable for regard country country poi andiamo a confrontare il codice mio col vostro ma nel frattempo per non bloccarmi faccio una lista e ordino quella e poi la aggiungo quindi mi faccio una lista e quindi aggiungo a questa lista alla fine travaso la lista nella tendina ah scusate prima di farlo la ordino già va utile collection non è che sto guardando cose strane non è che sto guardando cose strane vero non c'è un import però non c'è nessun import particolare country lo importa qua da model country implements comparable country altrimenti sort avrebbe ragione ho due progetti aperti io sto inclinando ok quindi in questo country non c'è comparator grazie mille non ce l'avrei mai fatto c'ho giocato ieri sì adesso sono andato ok allora il problema il problema era che il country che guardavo non era quello che usava java perché era rimasto aperto l'editor da un altro progetto implements comparable di country e adesso glielo implementiamo presentiamo this.getstatename.compare to other.getstatename ok adesso il controller forse funzionava già prima quindi togliamo queste schifezze ok succede purtroppo quando succede l'esame è peggio allora 2000 ordine alfabetico di quegli stati a questo punto l'utente sceglierà uno di questi e preme simula adesso facciamo la simulazione ok la simulazione cosa deve fare dicevamo quindi abbiamo a questo punto abbiamo il grafo creato abbiamo uno stato selezionato dall'utente che è uno di quelli della tendina e dobbiamo avviare la simulazione di queste mille persone a partire dallo stato iniziale dall'account iniziale e alla fine devo avere vediamo dal punto di vista del controller il controller chiederà al model dammi due informazioni io ti dico qual è l'anno magari non ti serve ma te lo dico lo stesso e ti dico qual è lo stato di partenza soprattutto e tu dimmi quanti passi hai simulato e l'elenco degli stati eccetera eccetera dell'elenco delle persone presenti nei vari stati allora l'elenco delle persone presenti nei vari stati dal punto di vista del tipo di dato già ce l'abbiamo perché questa lista di counting num dove questa volta i num sono le persone presenti istanziali e non il numero di stati confinanti però è una struttura dati che già abbiamo quindi io tanto per cambiare lo vediamo dal punto di vista del controller prima il controller estrae l'azione di partenza dalla tendina controlla che non sia null altrimenti dice che devo stampare un errore devi selezionare un'azione e altrimenti farà due cose la prima cosa è quella di lanciare il simulatore quindi dire che il numero di passi simulati uguale model punto simula a partire dall'azione di partenza e poi quindi fare la simulazione come risultato della simulazione potremmo già avere per esempio con il numero di passi di simulazione svolti poi ci serve un secondo risultato che è l'elenco visto che ci servono due cose una me la faccio restituire direttamente a un metodo e l'altra mi serve un altro metodo per andare a interrogare sul risultato e quindi la seconda sarà una lista di counting a num come questa stanziali in cui chiedo il model dimmi l'elenco degli stanziali che hai appena calcolato come risultato della simulazione e poi li dovrò stampare quindi il modello deve supportare questi due metodi allora il metodo facciamoci creare il metodo simula all'interno del modello cosa deve fare? deve attivare no predisporre e attiva e lanciare la simulazione avvalendosi come abbiamo fatto le altre volte di una classe simulatore separata così ogni volta che creiamo la classe simulatore siamo sicuri che parta con dei dati puliti all'inizio ok? questo simulatore ovviamente userà il grafo userà lo stato di partenza e userà le costanti che gli impostiamo allora creiamoci quest'altra classe anche all'interno del modello va bene e come tutti i simulatori ragioniamo su quelle che sono le tipologie di dati di cui ha bisogno allora quali sono i parametri di simulazione i parametri di simulazione cioè le costanti ce ne sono due se andiamo a rileggere il testo uno che dice che il numero di persone iniziali è 1000 quindi private int iniziali mettiamola maiuscola così ricordiamo che lo usiamo una costante uguale a 1000 poi eventualmente può essere modificata dal chiamante e poi l'altro parametro dice che secondo me possiamo indicarlo qua e dice qual è la percentuale di persone che rimane istanziale quindi dice ad ogni iterazione il 50% delle persone si ferma e gli altri invece migreranno sui stati successivi quindi questo possiamo indicare come un percentuale istanziali che è 0,5 nel nostro caso poi queste sono le costanti dopodiché avremo il modello quello che chiamavo il modello del mondo cioè quali sono le informazioni statiche fotografando la simulazione in un certo determinato istante quali sono le informazioni che mi descrivono com'è il mondo in questo momento allora di fatto ciò che mi serve sapere è quante persone sono presenti istanziali in un determinato stato al momento attuale quindi mi serve sapere per ogni stato quanti istanziali ho e questo è ciò che sto facendo evolvere perché alla fine questi mille saranno distribuiti in tanti stati ma il totale sarà sempre mille in ogni momento io voglio sapere dove sono quindi il primo passo della simulazione saranno 500 nel primo stato e gli altri ancora in movimento il secondo passo della simulazione saranno spostati e così via quindi il modello del mondo è un numero attaccato a ciascuna country per ciascuna nazione devo sapere quante persone istanziali si sono e questo come lo realizzo beh il modo più veloce è quello ad esempio attraverso una mappa mappa country integer c'è la punto utile country ales code ok non scopriamolo di nuovo tra sei anni ok dove sono andato simulatore che questo è il modello del mondo che il simulatore sta facendo evolvere e nel farlo evolvere calcola delle misure in uscita che sono essenzialmente il numero di passi di simulazione che è uno che è uno dei due valori che deve essere restituito l'altro valore che deve essere restituito è la popolazione eccetera eccetera ma è di fatto il contenuto di questa mappa riletta sotto forma di lista ordinata in modo decrescente eccetera eccetera quindi in realtà era di fatto una copia un estratto del modello del mondo e poi avrò la mia coda degli eventi ovviamente allora quali eventi ho in questo caso ma in questo caso secondo me è un evento solo un tipo di evento solo cioè migra ingresso chiamiamolo così in cui definisco quante persone fanno ingresso in un certo stato ad un certo istante di tempo t uguale a 1 t uguale a 2 t uguale a 3 al tempo iniziale avrò mille persone ingresso nello stato iniziale al tempo 1 poi quando estraggo questo dalla coda inserirò 200 persone al tempo 2 in un certo stato altre 100 persone al tempo 2 in un altro stato e così via e vado avanti e innesco la simulazione in questo modo quindi la mia classe evento che creiamo subito in questo caso non ha neanche bisogno di un tipo di evento un event type perché c'è un tipo di evento solo possiamo lasciarlo sottointeso c'è un solo tipo di evento che è ingresso quindi non sto neanche a definire le num che contenga un dato solo e i valori che ho invece sono un ingresso di quante persone quante persone in quale stato e come sempre in tutti gli eventi mi serve la variabile tempo al tempo t a quale istante di tempo quindi ricordiamo che la classe evento ha sempre la variabile tempo normalmente ha una variabile event type che in questo caso non ci serve perché c'è uno solo e poi può avere dei dati accessori che ci spiegano meglio che cosa succede in quel tempo in questo caso sono questi due num e country fatto nel senso che poi questa classe deve semplicemente essere completata con i suoi costruttori e get resetter e ovviamente deve essere ordinabile perché la dobbiamo mettere in una cosa prioritaria e il metodo compareTo va a confrontare il tempo quindi il retorno sarà this.t meno other.t quindi il nostro simulatore avrà come cosa degli eventi una priority queue di evento coda ok allora costruttore inizializzazione run e interrogazione dei risultati costruttore della classe simulatore in realtà deve sapere ah no non deve sapere niente non deve saperlo questo il costruttore non ha ancora bisogno di sapere quello stato di partenza lo inietto tra gli eventi iniziali questo stato di partenza lo sa il model che lo richiama il simulatore potrebbe in teoria anche partire da condizioni iniziali diverse tipo avere 10 persone in ogni stato e lui poi parte e va il simulatore ha bisogno soprattutto di inizializzarsi le variabili di lavoro allora ad esempio questa mappa per potersi inizializzare questa mappa dicendo che tutte le country sono a zero dovrà sicuramente avere l'elenco delle country ma dove lo può prendere l'elenco delle country beh dal grafo ad esempio tanto il grafo gli serve comunque per gestire le migrazioni quindi uno dei parametri che abbiamo dimenticato ma ci viene in mente adesso è che il simulatore deve ricevere una copia del grafo sicuramente quindi abbiamo un undirected graph di country di voltage graph e ovviamente questo signore lo dobbiamo anche memorizzare qua quindi il costruttore si prende una copia del grafo se la salva e usa i vertici del grafo per inizializzare la mappa in realtà non gli servirebbero tutti i vertici del grafo sì i vertici del grafo ma no i vertici del grafo sono sovra insieme delle nazioni che ci interessano perché noi sappiamo che in questo grafo abbiamo messo tutte le country molte hanno vicini zero hanno vicini zero quindi sono nodi isolati non ci arriveremo mai in quei nodi e non potranno mai essere scelti come country di partenza se volessimo potremmo fare un po' di economia e dire evitiamo di aggiungere alla mappa quei nodi che corrispondono alle country che non visiteremo mai non ci guadagniamo un granché allora la mappa la devo a questo punto creare e inizializzare dicendo che in tutte le country ci sono zero persone quindi stanziali dis.stanziali uguale new hash map di country hash map di country virgola integer e poi per tutti i vertici del grafo per tutti i vertici del grafo quindi dentro graph.vertexset nella mappa put al country c zero persone inizializzare zero i numeri istanziali in ogni stato poi mi creo la coda degli eventi vuota uguale new priority q di evento con zero eventi dentro e diciamo che tutte le strutture dati quindi la mappa il grafo e la coda sono inizializzate a questo punto posso avere un metodo che mi permette di caricare delle persone iniziali quindi precaricare la coda di simulazione public void possiamo chiamarlo inserisci delle persone in una determinata country al tempo iniziale cosa devo fare? devo creare un evento che metta il numero di persone iniziali nella country c al tempo 1 e questo evento lo aggiungo alla coda quindi a questo punto il model il chiamante di questo simulatore dirà semplicemente qual è la country da cui far partire la simulazione in cui iniettare le prime persone se volessimo dare al simulatore la possibilità di personalizzare anche il numero di persone iniziali io farei un overloading di questo metodo ne farei un altro che ha country c int persone così a questo punto il chiamante può anche decidere quante persone mettere in questo stato e non necessariamente le mille iniziali in questo caso non ci serve quindi ci basta questo metodo e poi finalmente c'è l'esecuzione della simulazione vera e propria public void scusate run simulatore è pronto fa il proprio lavoro il ciclo di simulazione è sempre lo stesso adesso vado a prendere while coda punto isempti finché non è vuota not coda isempti evento è uguale coda punto poll a questo punto so già cos'è l'evento è un'immigrazione di persone di persone di queste persone ce ne sono un certo numero che rimarranno ferme nello stato indicato dall'evento e un certo numero che si sposteranno ok quindi gestiamo gli stanziali e gestiamo i nomadi via allora quanti sono gli stanziali innanzitutto gli stanziali sono il 50% delle persone in arrivo quindi e punto get numero per la costante che era percentuale di stanziali questi sono quelli che si fermano ovviamente questo è un double e dobbiamo troncarlo approssimate per difetto quindi tronchiamo intero e buttiamo via il resto della divisione questo è il numero di persone che si ferma poi per sapere quanti sono i nomadi sarà la differenza ma io la differenza la devo dividere perché questi nomadi si dividono in vari stati e la devo dividere per il numero di stati adiacenti allo stato attuale quindi i nomadi sono le persone arrivate meno quelle stanziali diviso il numero di stati adiacenti quindi il numero delle persone arrivate sono getNum meno quelle che abbiamo deciso che si fermano che abbiamo appena calcolato il tutto non meno scusate diviso gli adiacenti al county quindi si sono arrivati siccome in prima missione c'è l'Italia devo dividere per il numero di nazioni che confinano per l'Italia perché questi nomadi andranno in una delle nazioni confinanti con l'Italia e quindi come faccio a saperlo graphs punto neighbor list of di chi del nodo e punto getCountry punto size quindi sta roba qua è il numero di vicini della country specificata dall'evento l'evento dice entra in Italia ok allora quanti sono i vicini dell'Italia qui cosa ho fatto ho dimenticato un get da qualche parte no ah stanzi giusto grazie perché stanziali era la mappa allora questi qui sono il numero di persone che vanno in ciascuno stato attenzione che abbiamo ancora abbiamo ancora un resto perché noi avevamo getNun persone lo 0,5% stanziale 0,5% l'abbiamo chiamato stanziali poi abbiamo fatto tanti gruppetti ciascuno della dimensione pari a nomadi ma non è detto visto che abbiamo approssimato per difetto qua abbiamo approssimato per difetto là non è detto che siamo arrivati a gestire tutti quindi in realtà gli stanziali veri sono un pochino di più quanti di più beh ad esempio potrei calcolare il resto di questa divisione per vedere quante persone sono rimaste fuori oppure non mi fido di me stesso né del resto della divisione e dico vabbè ma facciamo finta che gli stanziali alzi facciamo una cosa mettiamo un int confinanti e gli mettiamo questo valore visto che lo useremo quattro volte chiamiamo confinanti questo valore e quindi in realtà gli stanziali se voglio li posso ricalcolare giusti come getnum meno nomadi per confinanti sono sicuro di non perdere nessuno in realtà bastava prendere stanze e sommargli il resto di questa divisione spero ma così sono più sicuro di non perdere quindi diciamo così aggiungiamo anche i resti della divisione precedente lo ricalcolo da zero faccio prima quindi questo primo stanziale mi è servito come base da cui calcolare i gruppi di nomadi però poi non è il valore definitivo perché ci devo aggiungere quelli che non sono riusciti a ripartire tra gli stati adesso adesso devo fare due cose ho capito cosa succede in questo stato e devo gestire due cose aggiornare il modello del mondo ossia contabilizzare questi stanziali e poi schedulare gli eventi futuri e quindi diciamo così inserire destinazione dei nomadi sono queste due cose quindi il concetto generale è qua giornale modello del mondo adesso so dopo aver fatto questi calcolini quante persone sono diventate stanziali in questo stato aggiungiamole stanziali punto put e punto get country che cosa il valore precedente stanziali punto get di e punto get country più stanz quindi incremento il valore che era inizialmente zero ma poi sta andando avanti all'interno della mappa primo secondo quindi ho aggiornato il mondo adesso devo aggiornare la cosa degli eventi sulla cosa degli eventi significa per questi stati per ciascuno di questi stati aggiungere un nuovo evento alla coda quindi gli stati sono questi senza il size quindi per tutti i stati che sono vicini dell'account in cui sono arrivato adesso aggiungo un evento di ingresso di questi nomadi quindi avrò un evento e due punti new event a cui gli passo l'account di destinazione c diciamo uguale non due punti l'account di evento l'account di destinazione cosa vuoi evento è uguale new evento ok allora il primo parametro è il numero di persone che arrivano quindi nomadi il secondo parametro è la nazione verso cui vanno c che sta ciclando sui vicini sui stati confinanti dello stato attuale e il tempo è il tempo attuale più 1 quindi il tempo attuale è appunto get t più 1 c'era già una e sopra e 2 divento nuovo e a questo punto coda.add di e2 ok quindi sono nella e.getcountry vado a vedere tutti i vicini c di questa country per ciascun vicino c inserisco la quota di nomadi che riceverà quello stato al tempo t più 1 dopodiché questa chiusa graffa è la chiusa graffa dell'while e quindi si ripete la simulazione fino a quando ci sono nuovi eventi tutto questo lo devo fare solo se mi ricordo adesso perché altrimenti non finirà mai questa simulazione solo se i nomadi diversi da 0 quando è che si ferma la simulazione quando il numero di persone ancora migranti è minore del numero di stati adiacenti verso cui potessi spostare e quindi di fatto sono tutti parte del resto di quelli che rimangono quindi questa cosa qua va fatta solo se i nomadi è maggiore di 0 non inserisco nella coda la migrazione di 0 persone altrimenti avrei degli eventi a 0 che continuano ad andare avanti all'infinito in tutto questo ho dimenticato di fare una cosa cioè aggiornare i passi di simulazione quindi nel metodo run come prima cosa metterò passi uguale a 0 e ogni volta che estrago un elemento lo incremento così alla fine la variabile passi contiene il numero di no e dipende cosa intendiamo con passi me lo sto chiedendo adesso cioè qui dice il numero di passi t simulati t allora non è il numero di eventi simulati scritto così sto contando il numero di eventi che estrago dalla lista ci sarà un evento al tempo 1 ci saranno 5 eventi al tempo 2 ci saranno 18 eventi al tempo 3 e poi va via diminuiscono ciò che chiede però il test e quindi in questo caso conto il numero di eventi il numero di migrazioni simulate in realtà il testo andandolo a rileggere mi è venuto il dubbio mi parla specialmente di passi t dove t è il tempo quindi in realtà mi interessa sapere fino a dove sei arrivato con t sei arrivato con t uguale a 3 t uguale a 4 cioè quante ondate hai gestito allora a questo punto è facile perché basta prendere get dis.passi uguale e punto get t è il max mi serve il max il massimo valore di t che ho visto ma poiché elaboro la coda in senso crescente l'ultimo che ho estratto sarà sicuramente il maggiore quindi ogni volta mi salvo l'ultimo che ho visto e quando esco dal ciclo avrò salvato il t massimo non ho bisogno di fare un if maggiore di massimo perché sicuramente t è crescente quindi lo sostituisco con un valore che è uguale o maggiore a quello che avevo prima quando esco dal ciclo ci sarà il valore massimo mai visto in questo ciclo ok allora la simulazione completa basta aggiungere ancora i due metodi che servono al modello per restare i valori quindi avrò un if public a questo punto int get t get passi in cui ritorniamo dis.passi e poi ho l'altro metodo che restituisce la lista di cos'è che ci diceva il testo il nome dello stato e il numero di persone presenti quindi possiamo restituire una lista di country and num quella già di prima il metodo lo chiamiamo presenti o get presenti meglio questa lista la dobbiamo costruire a partire dalla mappa chiaramente però l'abbiamo già fatto tre volte in altre parti di questo codice prendo questa uguale new array list per tutti gli elementi della mappa che hanno un valore diverso da zero for country c due punti istanziali punto get keys punto keys scusate keyset per tutti le country che ho nella mappa in cui il numero di istanziali è maggiore di zero get di c maggiore di zero allora le aggiungo la lista punto add new country un number della country c e del number che è stanziali punto get dc e alla fine ordiniamo questa lista per numero decrescente del valore numerico che in questo caso ci conta gli istanziali non ci conta più gli stati confinanti return lista ok allora dovremmo avere tutto per poter implementare il metodo simula all'interno del nostro modello mentre lo simula creerà il simulatore passandogli il grafo inizializzerà il simulatore iniettando le persone nella prima azione inserisci nell'account di partenza lancerà la simulazione e potrà restituire il numero di passi fatti questo se non ci servisse l'elenco delle nazioni poiché però il model deve anche fornire controllo all'elenco delle nazioni cioè quell'altra lista e ricordiamoci che a questa chiusa graffa l'oggetto simulatore muore scompare quindi se voglio chiamare questo metodo get presenti lo devo fare qua subito prima di questo return perché il return il simulatore muore è presente a chi lo chiedo quindi mi devo salvare dentro il modello ricordiamoci il controller cosa fa il controller chiama simula del model e prende il numero di passi poi subito dopo chiede al model senti dammi gli stanziali allora il modello è stanziale il modello non ce l'ha però lo può chiedere al simulatore il problema è che non lo può chiedere al simulatore in questo metodo perché in questo metodo il simulatore non esiste più quindi dovrò fare un passettino in più di salvarmi all'interno del modello questa lista dei risultati della simulazione e quando chiamo la simulazione me lo salvo quindi this punto stanziali uguale sim punto get presenti il simulatore gira mi faccio fare la fotografia dei presenti mi faccio dire quanti passi ha usato e ritorno però questo dato qua get presenti me lo sono salvato in dis punto stanziali per cui quando il controller mi chiederà dammi gli stanziali e beh lo posso restituire il simulatore una volta che è finito di simulare può morire il modello deve ricordarsi i risultati della simulazione che possono ancora servire scopo del modello è ricordare quasi sempre allora abbiamo chiuso il cerchio controller analizza i dati ripassa al modello il modello inizializza esegue il simulatore poi magari pieno di bachi lo scopriremo abbiamo ancora 10 minuti per farlo e poi ritorna questi valori che il controller deve semplicemente stampare quindi txtresult punto append text di simulati tot passi 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 barra n e poi subito sotto ci aggiungiamo l'elenco delle nazioni non accounting accounting number stanziali stanziali txtresult punto append text è lo stesso di prima fammela copiare stato valore ok chi ha tante dito da incrociare anno 2000 carica i confini scegli l'Italia simula simulati 5 passi Italy 553 Austria Ungheria 50 Francia 38 Jugoslavia 37 37 35 33 30 28 e così via ovviamente decrescendo fino a arrivano fino a Andorra Polonia Albania eccetera eccetera quindi stranamente non ha dato eccezioni più o meno stranamente i risultati sembrano ragionevoli posso provare a fare un'altra simulazione che ne so partendo dagli Stati Uniti cambiamo continente simulati 7 passi in questo caso i numeri sono un po' diversi 605 sono maggiori il numero di persone che sono rimaste stanziate in Stati Uniti rispetto in Italia questo vedete il rimbalzo del Canada cioè quelli che vanno in Canada sono poi obbligati metà a tornare in Stati Uniti perché non ci sono altre nazioni confinanti e poi scendi giù lungo l'America centrale dimezzando praticamente ogni volta 168 nel Messico poi c'è nel Canada quelli che sono andati su quelli che non sono rimbalzati e poi in Guatemala Belize scende giù così 2, 3, 4, 5, 6, 7 passi di simulazione ad ogni passo di fatto ho giunto una nazione sola mentre invece nel caso dell'Italia dove in Europa i confini sono molto più ramificati ho fatto solo 5 passi di simulazione prima di esaurirli tutti ma ho raggiunto molti più stati perché ogni stato ha molti più confinanti ok? c'è andata relativamente bene va bene allora direi che questo esercizio se non ci sono altri dubbi o curiosità da parte vostra lo dichiarerei concluso per la settimana prossima ci cimenteremo nel esercizio del primo luglio 2016 facciamo la fila A tanto sono tutte abbastanza simili in cui c'era vabbè al solito grafo da costruire su un problema di formula 1 adesso vi faccio vedere il database e sul punto 2 era necessario costruire attraverso un algoritmo ricorsivo un sotto insieme di nodi di questo grafo che avessero certe proprietà che massimizzassero certe proprietà quindi se volete guardarvi il testo in vista della settimana prossima l'unica al di là della ricorsione che è sempre un mal di testa ma l'unica difficoltà vera di questo compito era che il database tutto sommato era relativamente complesso poi il grafo era semplice tutto sommato da fare ma per arrivare dal database al grafo bisognava fare un po' di ragionamenti sulle query capire come stare le informazioni che servivano quindi questo diciamo così facciamo questo esercizio perché so che l'anno scorso ho dato qualche problema al primo appello soprattutto di tempo di risoluzione quindi approfittiamolo lo facciamo insieme nella settimana prossima domani simulazione d'esame in laboratorio buona serata grazie a tutti grazie a tutti